Le bagliette Allegri Out le trovi solo nella vetrina sotto questo video e su absim.creator-spring.com Acquistale e diffondi il verbo Ciao da Absim! Beh, diciamo che finalmente qualche, ma qualche, responsabilità a Massimiliano Allegri viene attribuita in questo disastro della Juventus Stanno iniziando a scriverlo, eh? Allegri si gioca tutto, Allegri in bilico Interessante, è un primo punto fermo perché non dobbiamo dimenticare che nel giro di poche, veramente poche settimane Siamo passati da 0% possibilità di Allegri Out a qualcosa per cento e forse siamo anche oltre il 50% Quindi iniziamo veramente a respirare, iniziamo veramente a sperare che la nostra Juventus possa essere finalmente salvata dalle grinfie di questo pseudo allenatore Che la sta distruggendo tecnicamente, mentre ai piani leggermente superiori a lui la stanno distruggendo anche sotto altri punti di vista E Allegri che non sia magari proprio uno dei pezzi di questo puzzle di svalutazione della Juventus Nel senso che lui, come allenatore, con la probabilità che avrebbe fatto male e con la certezza che avrebbe fatto male in questa seconda stagione Alla luce della prima vi è mantenuto lì perché a un certo punto serve anche, diciamo, scendere un pochino più in basso per poi risalire Ecco, potrebbe anche essere una strategia che può sembrare strana ma potrebbe anche produrre i suoi frutti E da questo punto di vista dobbiamo parlare anche dell'ipotesi Europa League, di quello che succederà da gennaio, quindi della prossima parte di stagione Naturalmente parliamo di Antonio Conte ma appunto responsabilità ad Allegri Ma così sommessamente, tipo Gazzetta, che inizia a dare la responsabilità di qualche problema a Cherubini Il fantasma Cherubini, povero Federico che si è fatto tutta la trafila dentro la Juventus Salendo sempre di livello a un certo punto arriva ad essere incoronato direttore sportivo E neanche fa il direttore sportivo e neanche lo può fare perché il direttore sportivo in concomitanza con lui in realtà è proprio Allegri Poi Cherubini qualcosa l'ha fatta, nel senso che avrà preso anche delle decisioni sue, proprio di sua iniziativa E quindi che possiamo attribuire alla sua responsabilità Facciamo fatica ad intuirlo, a intravederlo, a capirlo Probabilmente l'impatto di Cherubini, che intanto non è indagato nella storia dell'inchiesta Prisma Sulla Juventus e sulla contezza attuale, sulla consistenza attuale della Juventus In termini di organico, di scelte tecniche strategiche, sono più scelte che appartengono al periodo precedente Al 2021 quando era più impegnato sul fronte prestiti, sul fronte under 23 e quindi anche scouting Ecco, di scouting parliamo in un altro video E quindi iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti E per sapere in anteprima a che ora usciranno i miei prossimi video e di cosa vi parlerò Abbonatevi a partire da soli 99 centesimi al mese Ma c'è anche un altro esempio, oltre a Gazzetta, che è quello di Tutto Sport Che ieri è uscito con un articolo meraviglioso, di cui vi leggo soltanto una frase Scelte sbagliate, si riferisce alle scelte sbagliate di formazione di Allegri Per esempio la gestione Milik, la gestione dei difensori, la gestione dei veterani Scelte sbagliate sono quelle che, più ancora dei risultati in sé Possono istillare il dubbio che il problema possa essere tecnico più che di organico Un applauso ragazzi, no veramente, un applauso Applaudite anche voi dovunque vi trovate, tranne se avete le mani impegnate Sono state guidando, non so, quindi nel caso lasciate perdere Applaudite d'animo Perché finalmente, finalmente al giorno, giovedì 27 ottobre alle ore 17.55 Tutto Sport ce l'ha fatta Ce l'ha fatta, finalmente hanno superato il limite delle onde alte E sono riusciti ad abbandonare l'isolamento, l'isola come in Castaway Come Tom Hanks in Castaway Dell'allegrianesimo E sono andati in mare aperto, in oceano aperto Ad incontrare le balene Scoprendo che può essere anche Potrebbe essere anche Colpa un minimo Di Allegri e non soltanto dei giocatori Incredibile Ci hanno messo un sacco di tempo L'hanno edulcorata ma ce l'hanno fatta Quindi complimenti a tutto Sport Perché tutta questa premessa, tutto questo cappello? Perché è essenziale nel ragionamento che dobbiamo fare su Antonio Conte Perché si parla di un Allegri in bilico Di un Allegri che si gioca tutto nelle prossime partite Sono quattro partite di campionato e una di Champions Quindi rimancano cinque Con quella di domani a Lecce Che già scotta Che già scotta E quindi stiamo parlando di un Allegri che potrebbe andare via a breve Dunque cosa c'entra Antonio Conte? Per commentare la notizia di Gazzetta di oggi E poi facciamo anche dei ragionamenti un po' più ampi Questo è un video di puro ragionamento Non vi porto elementi Anzi forse sì Forse uno sì Ma è comunque un altro spunto di ragionamento Che senso ha Antonio Conte adesso? Non ha senso Nel senso che Antonio Conte non è adesso Conte significa giugno Lo sanno tutti Conte significa giugno Non lascia il Tottenham adesso Non ha ancora rinnovato Ha detto più e più volte che lui si trova benissimo Che ha ottimi rapporti Con il board Con la presidenza Con Paratici naturalmente E quindi non ha al momento intenzione di andarsene Poi lo conosciamo Antonio Conte E' uno che un giorno dice una cosa La settimana successiva potrebbe dire il contrario E' uno che si fa molto rispettare anche troppo Pretendendo forse troppo rispetto Al punto da quasi negarlo agli altri Mettendosi magari al di sopra Lamentandosi troppe volte Adesso è al centro di questo dibattito Per la polemica che ha fatto contro il VAR In Champions League Per carità Ha perfettamente ragione Magari non nel tono e nelle rimostranze Non nella quantità di parole Che ha dedicato a questa vicenda Rispetto alla parte tecnica come allenatore In quell'uno a uno Però Veramente stiamo dicendo Che con il VAR Si può tracciare una linea di fuorigioco Per determinare se un giocatore E' sopra linea palla Individuando Il punto in cui il pallone Viene toccato Dal giocatore che la passa Cioè se avete visto il fermo immagine Capite di cosa parlo Cioè un conto è Trovare il punto più avanzato Tridimensionale Del penultimo difendente Un'altra cosa è che ci sono due giocatori Entrambi davanti Al penultimo difendente E quindi devi solo determinare Se il secondo che riceve palla E' o meno Dietro la linea della palla E mi tracci la linea Come fai a trovare Cioè la palla è sferica Come fai a trovare il punto Di contatto Dici ma il punto di contatto è uno solo Sì ma la palla è sferica Quindi Qual è il criterio Si prende il punto di contatto O la parte più estrema del pallone Siamo all'assurdità Siamo all'assurdità E qualcuno ricorderà Che io sono due anni Che dico che con il VAR Anche più in realtà Che con il VAR Bisogna cambiare la regola Del fuorigioco Bisogna allentarla Perché abbiamo uno strumento Che non va bene Sulla regola precedente La regola precedente Era fatta Per non avere lo strumento Siccome non c'era lo strumento Del VAR Bisognava andare a vedere Il millimetro E ci si fidava Dell'occhio del guardaline Che era fallibile Siccome adesso Abbiamo uno strumento Tendenzialmente infallibile Serve aprire Diciamo un po' più Le maglie Della regola del fuorigioco Ma adesso Senza entrare in questo Dicevo Conte Al centro di queste polemiche Dice che non ha intenzione Di lasciare il Tottenham Ma in ogni caso Se lascia il Tottenham Lo lascia a giugno Perché non rinnova Non rinnova Va in scadenza E quindi si libera Poi Conte guadagna Un sacco di soldi Quindi se la Juve Lo paghi te Il prossimo che viene Dice Arriva bene Non vuole investire Più tantissimi soldi Sull'allenatore Lacrime di coccodrillo Ci pensavate prima Di dare questa caterva Di soldi A questo non allenatore Diventa ancora più difficile Prendere Conte Ma in quel senso Diventa difficile Anche pensare a Tuchel Ma diventa difficile Anche pensare a chiunque altro Del panorama internazionale Soprattutto stranieri Poi su Conte Abbiamo già detto Ma basta Con le minestre riscaldate Cioè un altro Che ha già casa a Torino Possiamo cortesemente Prendere qualcuno Come allenatore Ma anche come giocatori Che non ha mai abitato a Torino Lo dico scherzosamente Ma per prenderla alla larga Molto più specificamente Sarebbe il caso Di aprirsi al nuovo Anche agli stranieri Possibilmente Perché non mi pare Che attualmente Gli allenatori italiani Tolti appunto Due o tre Ma che non sono prendibili Dico Sarri Dico Spalletti Dico Pioli E dico Conte Siano i migliori al mondo Gli allenatori migliori Sono probabilmente Tedeschi Inglesi Spagnoli Francesi Li devi andare a prendere In Europa E quindi devi anche rompere Questa Questa diga Questa Questa resistenza Agli allenatori stranieri Sacri legge Non può essere L'allenatore della Juve Non può essere straniero E poi c'è Il discorso Soprattutto il discorso Di arrivare Fino a giugno Oltre va bene Alla pace fatta Con Agnelli Ma quello lascia Il tempo che trova Cioè Possiamo Possiamo noi Essere una società Quotata in borsa Che per scegliere L'allenatore Deve prendere uno Che non abbia litigato Con il presidente Ok Facciamo ridere Facciamo ridere Però Veniamo Alle questioni Diciamo un po' più concrete Quindi intanto Dal mio punto di vista Allegri sarà Out a novembre Quindi manca Meno di un mese Tre settimane Giù di lì E Allegri lo cacciano Subito dopo la partita Con la Lazio Comunque vada O nei giorni successivi Arrivando al massimo Al 23 novembre Assemblea degli azionisti Allegri sarà esonerato Ormai Mia convinzione Spero di non sbagliarmi E qui dobbiamo fare Questo ragionamento Il motivo per cui Sarà esonerato È tutto quello Che stiamo vedendo I risultati Il fatto che non fa più presa Sui giocatori Non riesce più a produrre Nulla Siamo stati eliminati Dalla Champions È una cosa gravissima Perché la Juve L'aveva scritto Nel piano quinquennale 19-24 Che era necessario Sempre raggiungere Ogni anno Gli ottavi E di conseguenza La Champions successiva Quindi abbiamo cannato Un obiettivo fondamentale Poi tutte le sue dichiarazioni Pure di Allegri Comprese quelle che farà oggi Non lo so immaginare E ve le commenterò Quindi anche qui Stay tuned Quindi è veramente Ormai un corpo estraneo È veramente qualcosa Di indifendibile Quindi Allegri Fondamentalmente è out Ma se volete continuare A dirlo Le magliette Le trovate Le potete acquistare Dalla vetrina Qui in basso Per indossarle Finché Finché ci sarà ancora Che potrebbe comunque Arrivare fino a giugno Non è purtroppo Non è scontato Che sia così Però io credo Che la decisione Sia stata già presa A quel punto Conte cosa c'entra Per cui io credo Che quello che ha tirato fuori Oggi Gazzetta Con il ritorno di Conte Sia Non dico Una montatura Ma probabilmente Un depistaggio Cioè La si butta lì Per magari Per vedere Chi ha bocca Ma non è neanche La prima volta In queste settimane Che viene fuori Il nome di Conte E lui ha anche Già parlato Dice sì Ma non sta rinnovando Perché aspetta La chiamata da Torino Vorrebbe allenare Può darsi Ma perché Dobbiamo arrivare fino a giugno E qui appunto Veniamo Ha senso continuare In questo modo Oppure dobbiamo prendere Non lo so Un traghettatore Anche peggio Cosa ci fai con un traghettatore Il punto è questo La Juventus Ha perso Drammaticamente I suoi ricavi E non li recupererà In assoluto Andando avanti Con questa gestione Perché A parte che ve l'avevo Già detto prima Che venissimo eliminati Dalla Champions Ma proprio perché Mancano i ricavi UEFA E mancheranno Di conseguenza Manca l'appetibilità Dei tifosi Commerciale Degli investitori Dei giocatori Quindi siamo Una macchina ormai Che costa più di quel che vale Siamo come Una macchina d'epoca Che però Non ha neanche Il valore estetico E diciamo Museale E quindi Non c'è neanche Ecco il valore Diciamo artistico Siamo più che È una macchina d'epoca Siamo una macchina Prima che diventa Una macchina vecchia Prima che diventi d'epoca Quindi abbiamo Un'auto Che Ha un vecchio Ha un fascino Di qualcosa Ha un fascino Delle belle cose andate Ma non ancora Così tanto Da essere messa In un museo E nel frattempo Se la vuoi guidare Ti costa più Il carburante Che il valore Dell'auto Se dovessi venderla Oppure Appunto Quelle auto vecchie Dove Costerebbe Di più La polizza Assicurativa Annua Che acquistarla Dal privato Che te la vende Cioè La macchina Che si vende A 500 euro Ci devi mettere L'assicurazione E di carburante Vai a spendere Un salasso Questo siamo In questo momento E quindi con questi Ricavi Che non aumenteranno Perché le plusvalenze Non le puoi più fare O se le fai Devi fare molta attenzione Ma non le puoi fare Neanche Perché abbiamo Giocatori Che valgono Che costano Più di quel Che valgono Quindi valgono Meno di quello Che costano Perché a livello Di quote Di ammortamento Residue I Vlaovic I Locatelli Quando sarà riscattato Ken quando sarà riscattato Bremer Tutti quanti Quelli che sono più Vendibili per Carta di identità Non sono vendibili Per bilancio Chi te li viene A comprare Senza contare Gli stipendi Che sono totalmente Fuori Totalmente fuori target E lì ci ha rovinati Ronaldo Anzi ci siamo rovinati Con Ronaldo Perché uno che viene A prendere 31 milioni Alza gli stipendi Di tutti quanti E' chiaro che poi Arriva Rabiot L'anno dopo E dice C'è uno che prende 31 A me ne dovete dare 7 Come minimo Perché io sono Rabiot Tra l'altro E quindi questa è la situazione In una situazione come questa Andare avanti Fino a giugno In questo modo Ma dopo L'allenatore successivo Che viene a fare A parte che rischi seriamente Di non andare in Champions E quindi Senza la Champions Conte viene ad allenare La Juve senza la Champions Come fece nel 2011 Ma non è più Il Conte del 2011 Il Conte del 2011 Non esisteva Era un allenatore Ancora da farsi Aveva fatto solo gavetta Era tutta un'altra roba Era una scommessa A perdere Era una scommessa Letteralmente a perdere E ci è andata bene Benissimo Ringraziando Conte E ringraziando Marotta Sempre Molto più di Agnelli Oggi le cose sono cambiate Ma non solo Conte Chiunque altro In una Juve Disastrata in questo modo Che non gioca neanche la Champions E viene ad allenare È difficile Allora Quello che serve E non serve E non per il tramite Di un traghettatore Perché un traghettatore Chiaramente Non sarebbe in grado È rivitalizzare E rivalutare Il più presto possibile Tutta la Rosa E tutta la squadra Cioè Si deve tornare A giocare a calcio Questi calciatori Devono dimostrare A se stessi E agli altri Il loro valore Vero Con un allenatore Vero E poi si vedrà Con la Coppa Italia Eventualmente L'Europa League Che mi auguro Di raggiungere Solo in funzione Di un altro allenatore Perché se resta allegri Meglio non raggiungerla E parliamo anche di questo E naturalmente Anche il campionato Facevo questo ragionamento Anche ieri Nella live Riservata con Gli abbonati O forse l'ho detto No Era nella live Riservata con gli abbonati Che l'ho fatta un paio Quindi tra l'altro Abbonatevi per partecipare Alla live riservata Settimanale Che fin qui è stata Il giovedì Poi da febbraio Forse ecco Cambieremo appuntamento Cioè che la Juve Secondo me Fino alla fine Della stagione Potrebbe fare Un'altra cinquantina Di punti Con un'altra cinquantina Di punti Che a quarto posto Lo dovresti raggiungere Anzi Lo raggiungi sicuramente Ma per fare Questa cinquantina E quindi diciamo Se decidono Di tenere Allegri Quindi è vera La storia di Conte Secondo me Non è vera Cioè non è quello Che è stato deciso È stato deciso Che Allegri andrà via Ed è stato evidentemente Già scelto Il sostituto A quel punto Io spero Che non ci andiamo In Europa League Perché se ci pensate È anche meglio Dal punto di vista Dell'immagine Dell'onore Se vai in Europa League È certificato Che ti sei squalificato Se resti invece a casa Facciamo quarti nel girone È come se fossimo stati Eliminati agli ottavi Con due partite Con due partite D'anticipo Cioè non te ne accorgi Semplicemente Abbandoni l'idea Della Champions Due o tre mesi prima Non è un problema Invece dover Avere il pensiero Che deve andare A fare l'Europa League È umiliante Dal punto di vista Di una squadra Che non sta ricostruendo Se poi invertiamo La rotta Mettiamo un bel punto Ci fermiamo Tiriamo il freno a mano Ingraniamo la marcia giusta E ripartiamo Allora va benissimo Fare l'Europa League Per risalire Così come va benissimo Lottare per vincere La Coppa Italia Che altrimenti Mi fa schifo Se resta allegri La Coppa Italia La dobbiamo uscire subito Non ne voglio proprio sapere Di vincere la Coppa Italia Perché sarebbe L'ennesima giustificazione Assurda Ad una situazione Ingiustificabile L'ennesima giustificazione Dell'ingiustificabile Perché poi diranno Sì ma ha vinto la Coppa Italia Cioè ridicolo Sarebbe veramente ridicolo Quindi speriamo di perderla Se resta allegri Così come speriamo Di non andare in Europa League O di essere eliminati subito Se resta allegri E speriamo di non fare quarti Perché questa roba Di non fare quarti Sarebbe stata utile Già compirlo Perché già compirlo Ci sarebbe stata Ci sarebbe stato L'azzeramento del CDA Altro che Arriva bene Che Rubini Allegri Sarebbe cambiato tutto Poi ci sarebbe Un ragionamento Molto ampio da fare Su quello che sta facendo John con Andrea Dal mio punto di vista John sta da tempo Ma da tempo Mandando avanti Andrea Per farlo sbagliare Palesemente Così da togliersi L'imbarazzo Di toglierlo di mezzo Perché è un Agnelli Non può silurarlo E quindi deve Succedere qualche cosa Per cui È Agnelli Che si mette nelle condizioni Di essere cacciato Inevitabilmente Inconfutabilmente Per un motivo proprio Incontestabile E non per una decisione Che proviene da Che proviene da John Detto questo Traghettatore Nuovo progetto Per me serve Un nuovo progetto Il più presto possibile Che ridia valore A questi giocatori Perché prima Devi abbassare i costi Ma per abbassare i costi Devi valorizzarli Perché se non li valorizzi Non li puoi vendere Per abbassare i costi Li devi vendere Che ti consente anche Di aumentare i ricavi Nel breve periodo Ma per venderli Li devi rivalutare E valorizzare Per valorizzarli Serve un allenatore vero Non un traghettatore Serve subito Un nuovo progetto Su due anni e mezzo Tre Quindi due stagioni e mezzo Almeno E quindi Non può essere Conte Perché Conte Non va via adesso Tanti nomi Ve li ho già fatti Sapete che il mio preferito Sarebbe al momento Spalletti Mi piacerebbe tantissimo Anche Juric Di cui avevo parlato Già nel 2021 Con Pirlo in bilico Avevo detto Spalletti Datemi Spalletti Datemi Juric Poi è tornato allegri Ma ce ne sono anche Tanti altri Che potremmo menzionare E li abbiamo già fatti I nomi Perché vale anche Il discorso Va bene chiunque Ma va bene chiunque Rispetto ad Allegri Però rispetto A quello che serve Non va bene chiunque Per esempio Se mi dicono Alessio Dionisi Io dico Ma che dobbiamo fare Con Dionisi E non è una questione Che adesso Già sono Dionisi Out Se dovesse essere Dionisi L'allenatore da Juve No Chiaramente Gli si dà tempo E poi lo si valuta Con calma Il punto è Che Dionisi Non è secondo me Quello che servirebbe Quindi bisogna trovare Quello che servirebbe Ora Anche se forse Sarebbe stato più utile E conveniente Farlo all'inizio Di questo video Lo faccio alla fine Tanto chi ha avuto pazienza Ci è arrivato lo stesso Come sapete Max Montaina Ha tirato fuori Il nome di Mancini Ha parlato di una fonte Che gli ha riferito Che a giugno Il nome Per sostituire Allegri e Mancini Sono giorni In realtà Non so Max da quanto tempo Lo sa Io lo so Da diversi giorni Non vi ho detto nulla Perché non mi interessava Di star qui A dire Clamoroso Vi dico Non mi interessa Anche di essere Quello che Avsi mi aveva detto Che era Mancini Non mi interessa Non so se la fonte Che a Max È la stessa Quello che so io Invece È che Mancini Non è giugno Ma è novembre Per quello che Ho potuto sapere Ma ripeto Non so Quanto sia fondata Questa cosa Allegri è out E Mancini Sarà il suo sostituto Immediato E questo sarebbe Molto vantaggioso Non mi fa impazzire Mancini Poi avremo tempo Di parlarne Non in questo video Però sarebbe Un'ottima cosa Perché Mancini È un progetto Mancini È un progetto Al di là poi Che dobbiamo capire Chi è titolato A scegliere Il nuovo allenatore Ed è una problematica Che ho già sollevato Perché per me Sono tutti squalificati E nessuno è legittimato A fare la scelta Sul nuovo allenatore Però Se parliamo Di un Allegri out Perché viene azzerato Il CTA Allora è chiaro Che nessuno Di quelli Attualmente In carica Dovrà avere Avrà il lusso Avrà l'onore Oltre che l'onere Di scegliere Il nuovo allenatore Rischiando di combinare Altri pasticci Perché le scelte Sugli ultimi allenatori Chi le ha fatte Quelli che poi Sono ancora lì Quindi azzeriamo prima E poi qualcun altro Sceglie l'allenatore Questa è una questione Diciamo Costituzionale Cioè proprio Di assemblea costituente Chi è legittimato Chi è titolato A prendere la decisione Chiave Non queste persone Se c'è sarà L'azzeramento E di conseguenza La decisione Parte da Elkan John Elkan Roberto Mancini Lo chiama sicuramente Cioè è uno dei nomi Che potrebbero Piacergli Sotto tanti punti di vista Sotto molti punti di vista Quindi quello che so io È questo Però ripeto Non so quanto sia fondato Che Mancini Non è neanche a giugno Ma è addirittura a novembre Ci sarebbe una clausola Come per tanti Commissari tecnici Di nazionale Di potersi liberare Immediatamente Alla ricezione Di una offerta Da parte di un club La federazione Lascerebbe partire Mancini Da contratto Di destinazione Juventus In qualunque momento Tanto non c'è neppure Il mondiale Per cui questa potrebbe Essere la situazione Se non è Mancini Io comunque ritengo Che ci sia Un altro nome Che forse non è ancora uscito Già pronto Ma sempre per novembre Dopodiché signori Se decidono veramente Di mantenere allegri Fino a giugno La motivazione Come ho già detto È il discorso Della clausola Cioè che allegri Se va via Al 30 giugno 2023 A determinate condizioni Cioè Zero titoli Mancato quarto posto Eccetera Possono liberarlo a zero Per questo lui non si dimette E per questo Non l'hanno ancora esonerato Però Significa Distruzione totale Significa Rischio di finire Nella parte destra Della classifica Con tutto quello Che ne consegue E poi Devi rifondare Veramente in maniera drammatica Perché ripeto Mentre un progetto Che subentra Con un allenatore Che valorizza E rivitalizza Ti consente Di azzerare la rosa L'estate prossima Ma ha dei valori Validi Cioè Contando su dei giocatori Che valgono ancora qualcosa Se restiamo Se restiamo con Allegri Fino a giugno Noi ci ritroviamo Veramente con 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 Carta straccia Ci ritroviamo Con carta straccia Da buttare Dalla finestra Riferendomi Naturalmente Al valore Dei giocatori Che a quel punto Sarebbe quasi azzerato E chi te li compra E come fai a fare La rifondazione Che sarebbe necessaria Credo che questo sia il quadro Vi dicevo Video di assoluto E puro Ragionamento Liberate Le vostre opinioni Grazie per la vostra attenzione Quindi buon dibattito Nei commenti Come la pensate Su Conte La situazione Allegri Chi deve decidere L'ipotesi Mancini Mettete like al video Se vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Attivando la campanella Delle notifiche Per non perdere I prossimi contenuti Attivate anche L'abbonamento A partire da solo I 99 centesimi Al mese Per avere tanti vantaggi Come vi dicevo La live riservata settimanale Alcuni video in anteprima La partecipazione In esclusiva Alla chat Dei miei commenti live Post partita Della Juventus Tra cui quello Di domani Alle 20 Post Lecce Juventus E guardate La vetrina Date un'occhiata Alla vetrina Qui in basso Per le magliette Tra cui Allegri Out Ci vediamo Molto presto E sempre forza Juve Alla vetrina Alla vetrina Alla vetrina Alla vetrina Alla vetrina Pondera Alla vetrina Grazie a tutti.